buonasera benvenuti nella libreria rotondi a voi che siete qui in presenza e chi ci segue dal canale youtube e questa sera è un'altra tappa in realtà la penultima della di questo percorso alla scoperta del pensiero di tommaso palamidessi fatto attraverso la presentazione dei quaderni di archeosofia che ne sintetizzano il pensiero e lo abbiamo fatto insieme a gianluca castrini e no a sara castrini ea gianluca de martino scusate e principalmente ma abbiamo avuto anche altri relatori sempre della scuola archeosofica e un percorso iniziato da parecchio tempo perché mi ricordava sarà il 15 marzo e con degli appuntamenti ogni lunedì libreria ma arricchito anche con dei podcast che trovate disponibili sul canale youtube e a questo punto gianluca e ti lascio la parola e vi ringrazio di essere qui questa sera bene grazie barbara buonasera a tutti grazie l'argomento di questa sera voi che siete venuti voi che siete collegati lo vedete e la presentazione di questo testo di palamidessi storia del cristianesimo esoterico il trentacinquesimo quaderno della collana archeosofica che palamidessi ha scritto negli anni 70 e che è stato dato alle stampe cioè diffuso dall'associazione solo molto recentemente qualche anno che l'associazione ha deciso di pubblicarlo è un testo molto importante all'interno della nostra scuola come voi sapete archeosofica una libera scuola per liberi studiosi ha questa caratteristica importante per cui chiunque partecipi alla possibilità di portare il proprio contributo è realmente uno studioso di questa disciplina particolare e questo quaderno è tra tutti e quello che ha un po una caratteristica speciale perché ricostruisce il filo non dell'esoterismo cristiano ma del cristianesimo esoterico alcune volte queste due espressioni vengono confuse non sono la stessa cosa i cultori di queste tematiche avranno già colto le differenze diciamo nelle nelle espressioni e come sempre facciamo noi quando presentiamo i quaderni siccome hanno una profondità particolare piuttosto che farne una sorta di commento o di esegesi preferiamo leggere direttamente alcuni brani alcuni estratti del quaderno che poi vengono accompagnati anche per chi ci vede dalle slide che descrivono un po i titoli dei capitoli allora è uno dei quaderni un pochino più lunghi questo quaderno a circa un'ottantina di pagine più o meno una settantina e per essere una sintesi quindi sono sono molte pagine e il primo capitolo è proprio l'utilità di una storia del cristianesimo esoterico perché come noi sappiamo la storia del cristianesimo negli anni 70 soprattutto dopo il concilio vaticano secondo che come voi sapete si è svolto insomma all'inizio degli anni 60 a cavallo tra gli anni 54 all'inizio degli anni 60 la storia del cristianesimo era abbastanza consolidata ma la storia del cristianesimo esoterico no e quindi palamide si mette proprio un punto fermo mi fa piacere leggervi alcuni alcuni brani l'uomo dotato di intelligenza e spirito di libertà ha sete di verità due aspirazioni affini innalzano l'animo umano al di sopra dei miraggi della natura il bisogno imperioso di immortalità e di verità o perfezione etica la fine e la vita immortale è un male grande se contemporaneamente non si diviene degni dell'immortalità realizzando tutte le verità e l'immortalità senza la perfezione equivarrebbe ad un eterno tormento e parimenti la perfezione senza immortalità sarebbe un ironico insulto ed un assurdo ingiustizia l'uomo lasciato a se stesso è nell'impotenza assoluta non può sfuggire a niente né alla morte del corpo né a quella dello spirito perché come ha scritto il russo vladimir salavioff per natura noi anegliamo a vivere sempre ma la legge della natura terrestre non ci dà una vita eterna essa ne lascia in noi soltanto il desiderio l'aspirazione con la ragione e la coscienza cerchiamo la verità ma la legge della ragione umana e la voce della coscienza ci dicono chiaramente che siamo immersi nell'errore e che facciamo il male esse non ci fanno raggiungere il velo il vero e non ci rendono degni dell'immortalità come vedete palamidessi non usa giri di parole strumenti diplomatici o comunicativi cioè non ha proprio questo tipo di approccio dice le cose esattamente come le sente le vive e le scrive noi viviamo in un'immensa rete di interrogativi che hanno prestato il fianco a molte risposte azzardate e insoddisfacenti sono stati scritti migliaia di volumi in tutte le lingue sono state fondate numerose numerose religioni con un niente di sicuro ed è sintomatica la celebre frase di pilato che cos'è la verità evidentemente quel procuratore romano non aveva trovato chiarezza nelle vicende dell'esistenza e la sua domanda fatta a gesù avrebbe ragion d'ersere e sarebbe senza risposta se non vi fosse una guida autorevole verso la conoscenza del mondo dell'uomo e di dio quindi presenta già qui in questa espressione una scala il mondo l'uomo il dio quantomeno sembra una progressione non vi è bisogno di restare nello scetticismo e di brancolare nel buio perché la verità si può conoscere cercandola nel modo esatto anche il grande filosofo scandinavo hegel che aveva sconvolto e l'uso se stesso il mondo con il suo idealismo e i suoi scritti come voi sapete l'idealismo è all'origine sia delle dottrine materialistiche del diciamo da cui poi si è arrivati al materialismo appunto al comunismo dal punto di vista politico sia che del delle dottrine del titanismo che si sono manifestate poi nel nel dazismo entrambe pescano da da hegel giunto alla fine dei suoi giorni volle che sul letto di morte gli leggessero un solo libro la bibbia e gli disse che il tempo della sua esistenza era terminato ma che se avesse potuto vivere ancora avrebbe fatto di quel libro l'oggetto del suo unico studio perché in esso stava la ragione della vita e della morte che non era riuscito a scoprire un altro insigne filosofo la cui fecondità di pensiero non è del tutto esaurita e manuel kant ebbene quest'uomo della ragione rese la seguente la seguente testimonianza fate bene a basare la vostra pace la vostra pietà sugli evangeli perché solo in essi e la sorgente delle profonde verità spirituali dopo che la ragione ha usurito le proprie possibilità come voi sapete se vi ricordate i famosi trascendentali nodi di kant riguardano proprio questo limite che solo attraverso la fede è possibile raggiungere tutta la vita dell'uomo si accentra su ciò che pensa come l'uomo pensa nel suo cuore così è scritto nei proverbi le sacre scritture equipa la medessi aggiunge e l'archeosofia intesa come quindi archè principio sofia sapienza oppure se vogliamo usare l'interpretazione che giovanni utilizza la terminologia che giovanni usa nel prologo del suo vangelo l'archè sta al padre sofia sempre la sapienza quindi la conoscenza ok quindi si può intendere come sapienza dell'archè dell'assoluto quindi o del principio dei principi danno la luce la pace interiore contenendo la via che fa dire agli smarriti di aver trovato la verità e con essa libertà poiché iddio sin dall'inizio della creazione del mondo ha fatto conosce la verità nessuna evoluzione religiosa è possibile questo aspetto deve essere abbastanza chiaro c'è l'idea che la religione evolva è un concetto umano perché la religione evoluzione infatti palamedesi dice la rivelazione primordiale può essere progressiva ma sempre coerente con le rivelazioni precedenti in questo senso è palese che la rivelazione cristiana non poteva essere in contraddizione ad esempio con le prefigurazioni dei miti classici non è che poi sant'agostino si inventa le somiglianze tra il cristo la figura la storica il personaggio anche del vero dio e vero uomo egli attribuisce le caratteristiche delle divinità diciamo ideate dai grandi sacerdoti del passato per occupare spazi mentali no perché la rivelazione progressiva quindi quando si realizza contempla riassume sintetizza tutto quello precedente quindi anche cicli cosmici anche le manifestazioni temporali anche le prefigurazioni mitologiche tutto viene riassunto non è un'evoluzione è una rivelazione progressiva dal nostro punto di vista sembra evoluzione ma nella realtà è una progressione nella rivelazione il movimento degli ignostici fu respinto dall'ecclese nascente anche se aveva in sé delle cose buone ma perché ogni caposcuola mancava di coerenza con gli altri presentando gravi varianti nei concetti incompatibili con la rivelazione unica e con l'etica dei perfetti purtroppo dalla lotta anti ignostica furono travolti teologi ed ascetti di grande valore quali clemente alessandrino origene e variopontico che furono calunniati e perseguitati i loro scritti mutilati e dispersi questa breve storia del cristianesimo vuol portare il suo contributo nel far luce sugli aspetti esoterici della rivelazione divina dalla quale non erano lontani certi padri del passato purtroppo con essi si sono persi dei notevoli contributi fra cui quello del siciliano panteno il maestro sarebbe stato di clemente alessandrino che trasmise appunto a clemente quanto sapeva della trasmissione orale riservata degli apostoli e che clemente scrisse a modo di compendio in un colossale manoscritto di otto libri intituale intitolato ipotiposi sarebbe abbozzi appunti questa preziosa opera che rispecchiava l'esegesi cristiana di panteno è stata dispersa sfuggì alla distruzione solo qualche frammento e tale scempio fu un abuso contro il cristianesimo esoterico compiuto per far risaltare solo l'insegnamento di masso popolare tenete presente che stiamo parlando del secondo secolo dopo cristo quindi subito dopo già si erano messe in moto queste forze che avrebbero bloccato la trasmissione sapienziale della dell'aspetto più profondo esoterico ma queste ipotiposi cioè questi questi abbozzi questi appunti di clemente alessandrino basati sull'insegnamento di panteno sono menzionate da eusebio di cesarea che uno dei padri della chiesa citati per la sua storia ecclesiastica infatti nella sua storia ecclesiastica scrive diverse cose riguardo a questo tema e noi riprenderemo l'argomento poi dice anche all'epoca di gesù cristo e secondo l'uso del tempo e anche secondo tradizione vigeva per esigenze didattiche il deliberato silenzio circa le spiegazioni profonde esoteriche della rivelazione e le relative esegesi o interpretazioni delle sacre scritture istruire in maniera diversa era severamente proibito dalle autorità cristiane spesso formate da persone incline alla segretezza e non sempre a sproposito ma ciò travolse nel furore dello zelo uomini unici eccezionali che tentavano di forzare gli intelletti degli impreparati questa è una realtà con la quale si sono scontrati anche gli istruttori non solo chi ha portato la rivelazione ma anche gli istruttori successivi cioè la necessità di decidere dove fermarsi nello spiegare quello che sapevano perché perché l'incontro con l'umanità con la varietà dell'umanità il dover aprire anche in un certo senso le porte comporta necessariamente un confronto e dice quanto paramilessi su questo scritto un quaderno quanto possiamo grazie grazie quanto possiamo modificare quanto possiamo dire il nostro atteggiamento intendo quanto possiamo rivelare adesso e il problema c'era era era deliberato il silenzio all'epoca istruire in maniera diversa era severamente proibito ma ciò travolse abbiamo detto anche quelli che avrebbero voluto in qualche modo anche cominciare a dare delle spiegazioni capire a fondo la dottrina rivelata è indipendente dall'aver conseguito le promozioni ai gradi superiori cioè uno non può avere diciamo tutte le mostrine tutti collari tutti i gradi diciamo così tutti i colori tutti i paramenti che vuole ma se questi gradi non sono stati conferiti da chissà e se chi li riceve non ha vissuto le esperienze collegate a quei gradi si rimane sempre nell'esoterismo al limite si rimane una forma di cultura esoterica perché l'esoterismo è esperienza diretta del sacro non è conoscenza culturale anche se noi siamo in una libreria stasera e leggiamo quaderni testi però questo è un punto sul quale palamidessi su questo insiste tantissimo ancora il cristianesimo uno solo ma spiegato in due modi perché ha due aspetti quello semplice o elementare e quello esoterico più profondo e impegnativo questo lo dice proprio il cristo no dice che lui parla in due modi a loro parla in parabole a voi dico tutto più volte lo ripete nei mangi quindi perché avrebbe dovuto parlare in due modi le religioni del mondo non sono tutte totalmente rivelate da dio ma possono essere delle concezioni culturali presentate con la parvenza di rivelazioni anche questo bisogna averlo presente soprattutto adesso che viviamo una sorta di supermarket della spiritualità per cui sostanzialmente anche sul web uno si può trovare come a fare la spesa in un supermercato passa col carrello e sceglie un pezzetto di questa dottrina un pezzetto di quella si compone la propria ricetta no siamo sicuri che sia una cosa sana fatta bene e poi quali di questi cibi avete visto sono buoni danno un vero nutrimento e quali no l'ecclesia o chiesa è l'istituzione fondata dal dio uomo gesù il cristo a carattere di universalità governata dallo spirito santo e destinata a condurre gli uomini a dio grazie alla redenzione e dai mezzi ascetici di santificazione e tenete presente se non è chiaro lo dico non stiamo parlando di un aspetto parrocchiale non stiamo parlando di un aspetto bigotto lo so che tutte le volte si pronunciano questi nomi noi li interpretiamo alla luce di quello che abbiamo vissuto non ne possiamo far niente è una sorta ora si dice questa espressione bias no è una sorta di filtro obbligato che la che abbiamo non tutti ma molti sì bene dobbiamo la primo lavoro da fare è cancellare questi filtri riaprirci alla realtà di questa esperienza dopo possiamo comprendere il senso di questa affermazione una delle caratteristiche del messaggio cristiano è quella di essere una dottrina rivelata esposta sia in forma esoterica che esoterica alla maniera dei misteri pagani e gnostici che non essendo rivelati non sono accettati dal cristianesimo però questo non vuol dire che non fossero all'epoca veri e che sono superati con dei misteri parecchio più spinti precisiamo ora la distinzione dice fra palamidesi fra esposizione della verità con concetti esoterici ed esoterici però molto brevemente anche perché se siamo qui questo aspetto lo conoscete tutti esoteros viene dal greco vuol dire interno profondo quindi anche nel significato in un certo senso di nascosto e esoteros vuol dire invece esterno quindi anche col significato di popolare esoterico non vuol dire sempre decaduto perché esoterico può anche vuol dire semplicemente esterno il guscio che protegge il seme ma non è detto che sia necessariamente per forza una dottrina sbagliato decaduta purtroppo spesso invece all'esoterismo si collega anche un decadimento dei contenuti ma questo è un discorso che approfondiremo che approfondiremo più avanti e capire perché il cristianesimo esoterico richiede una precisazione che adesso ci farà Sara sì sempre ovviamente avvalendosi delle pagine e del testo di tommaso palamidesi il quale aveva appunto nel precedente capitolo parlato della rivelazione primordiale che ha un carattere progressivo e infatti il capitolo successivo parla proprio di questa distinzione tra una tradizione metafisica primordiale unitaria e il suo manifestarsi attraverso le varie religioni che si susseguono nel corso dei secoli e le varie rivelazioni che quindi ciascun popolo ha avuto di questa tradizione primordiale unica dice al di là di ogni religione o tradizione spiritualizzante particolare vi è una tradizione metafisica arcaica o primordiale unitaria il termine metafisico vuol significare un sapere inerente non il mondo fisico ma una realtà che trascende il mondo umano e terreno al fatto incontestabile che vi sia sempre stata una tradizione primordiale unitaria e metafisica comunicata poco alla volta tutta l'umanità accennano san giustino martire nelle sue apologie e sant'agostino vescovo di pona nei trattati la vera religione e le ritrattazioni quest'ultimo sostiene infatti che la religione cristiana c'è sempre stata prima che il messia si incarnasse come è facile intuirlo accettando il discorso metafisicamente ciò che si chiama religione cristiana scrive sant'agostino esisteva presso gli antichi e mai ha cessato di esistere dall'origine del genere umano fino al giorno in cui il cristo stesso essendo venuto nelle sue spoglie mortali si è cominciato a chiamare cristiana la vera religione già prima esistente quindi in pratica sta affermando che la religione cristiana cioè la rivelazione cristiana da sempre esiste e poi si è manifestata quando il cristo si è incarnato nelle spoglie mortali quando poi dopo la resurrezione nell'ascensione al cielo gli apostoli cominciarono a predicare il cristo e molti lo credettero cosa che per la prima volta accadde come sta scritto in antiochia i discepoli furono chiamati cristiani ecco e tommaso palamidesi dice possiamo arrivare alla stessa conclusione di sant'agostino anche attraverso l'esame del contenuto esoterico ed esoterico esoterico cioè appunto esoterico manifesto diciamo così ed esoterico cioè più nascosto delle precedenti religioni cioè vigenti prima che nascesse il cristo infatti tutto ciò che dei discorsi di gesù e di quello che gli apostoli hanno tramandato è arrivato sino a noi si ritrova nelle altre religioni sparse per il mondo e in esse si riscopre anche ciò che volontariamente è stato taciuto la rivelazione sia pure filtrata attraverso la persona umana prescelta dall'alto per essere utilizzata quale portavoce di una realtà metafisica si è fatta sentire ovunque presso i saggi della cina del giappone india persia grecia egitto incas eccetera cioè tutti i popoli hanno avuto la loro parte di rivelazione progressiva e frammentaria mescolata alla zavorra delle sovrastrutture umane quindi una cosa è la rivelazione progressiva che è stata data a ciascun popolo una cosa è poi l'interpretazione che di questa stessa rivelazione è stata tramandata dall'essere umano che tendenzialmente si adatta sempre le cose è più giusto dire che il cristo cioè il verbo ha parlato sin dalla fondazione del mondo a tutti nel modo più adatto e ognuno ha capito come ha potuto come gli stessi postoli hanno a modo loro comprese tramandato la verità del resto quante volte gesù rimprovera la scarsa intelligenza metafisica ai suoi seguaci in quante occasioni gesù rivela il suo malcontento nell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci per esempio dice non capite ancora ecco poi scrive ancora tommaso palaminesi dopo la caduta adamica dio non ha abbandonato l'uomo a se stesso ma ha instillato in lui il desiderio di ritrovare l'antica felicità con la ricerca delle cose del divino quindi dal momento in cui l'uomo si è staccato dall'unione con dio per cui partecipava proprio della sapienza divina non è che l'uomo è stato abbandonato a se stesso è scattata subito questo questa rivelazione progressiva questo rivelarsi proprio di dio stesso per guidare comunque l'evoluzione spirituale dell'umanità affinché possa riconquistare lo lo stato originale di unione con dio quindi di partecipazione proprio alla sapienza divina dio pur non usando per tutti lo stesso linguaggio ha fatto continue rivelazioni all'umanità servendosi di diverse forme a seconda dell'intelligenza della civiltà del temperamento e della capacità di comprensione di ogni popolo ognuna di queste rivelazioni antecedenti il messaggio di cristo fece corpo con una religione nella quale confluirono insegnamenti per la massa o elementari appunto l'aspetto esoterico che si trova in tutte le religioni e insegnamenti più profondi per i più ricettivi esoterici quindi questo aspetto esoterico ed esoterico si ritrova in tutte le tradizioni religiose e lo stesso fenomeno accade anche nel cristianesimo nascente dei primi secoli quando le due istruzioni che si integravano e non si contraddicevano cioè non c'era un aspetto di massa che negava un aspetto più profondo no i due aspetti si compenetravano si integravano perché l'uno era di preparazione per accedere all'aspetto più profondo erano insegnate con le opportune precauzioni e e poi riporta questo brano anzi questo cenno alla distinzione che santo apostolo san paolo fa nelle pistole quando parla della distinzione tra la lettera che uccide e lo spirito che vivifica cioè un'interpretazione che si accontenta soltanto del significato letterale è come se non riuscisse a penetrare l'aspetto più profondo che è legato proprio a questo spirito che vivifica e quindi ci vuole come una capacità una chiave per poter penetrare l'aspetto più profondo del cristianesimo stesso quindi dedica un capitolo alla distinzione tra l'insegnamento umano e l'insegnamento divino che inizia con una introduzione in cui fa una distinzione nel parla diciamo di come lo stesso insegnamento umano avvenga per gradi per cui viene adattata la conoscenza che deve essere trasmessa all'intelligenza delle persone che sia che siano davanti perché comunque la conoscenza è importante che le persone che recepiscono questa conoscenza appunto possano assimilarla quindi lo scopo è quello dice così come c'è una gradualità nel modo umano di insegnare dice così è per l'insegnamento divino che i teologi chiamano rivelazione esso arriva a certi uomini di sovrumana intelligenza e ricettività telepatica con una rapidità proporzionale alla loro capacità perciò la rivelazione è detta progressiva ed elementare o esoterica o più profonda e completa esoterica ogni popolo possiede frammenti della rivelazione e dice il momento culminante in cui l'umanità ha ricevuto una rivelazione su dio la creazione l'uomo e la sua vita terrena e ultraterrena fu quando il cristo apparve sulla terra quindi tutto quello che era stato preannunciato nelle rivelazioni precedenti raggiunse il suo culmine quando lo stesso figlio di dio sapienza del padre si incarnò nell'uomo gesù dio che gesù di persona rivelò ai suoi discepoli e missionari era stato rivelato dall'artefice del tutto ai condottieri religiosi dell'india della cina della grecia di roma cioè vedete fa una distinzione prima vi era stata una rivelazione fatta da dio ai vari condottieri religiosi dell'india della cina della grecia di roma della caldea della palestina poi è gesù stesso di persona che rivela ai suoi discepoli e missionari iddio ma quella rivelazione doveva essere unificata cioè quella precedente e lo fu dal messia che la completò durante il suo tragico soggiorno in palestina e poi aggiunge lasciando lo sviluppo di questa rivelazione al paracleto quindi nei vangeli gesù fa riferimento alla venuta del paracleto quando dice tante cose non le potete ancora capire ma le capirete quando verrà il paracleto quindi annuncia un ulteriore sviluppo della sapienza da lui rivelata come se dovesse essere realizzata questa stessa sapienza dalla stessa intelligenza umana che deve emanciparsi attraverso la rivelazione portata da cristo e poi fa riferimento al fatto che gesù stesso rivela la sapienza divina dosandola in conformità all'intelligenza spirituale degli individui perché per esempio sceglie tra tutti gli esseri umani sceglie sceglie dodici apostoli e tra questi ne sceglie tre a cui riserva una rivelazione ancora più spinta appunto pietro giacome e giovanni e appunto tommaso palamini si scrive essi trasmisero tali insegnamenti a pochi altri che ebbero il divieto di divulgarli alle masse e quindi furono nascosti anche ai convertiti e battezzati ritenuti non abbastanza puri di cuore e intelligenti da poter capire i misteri quindi c'è una riservatezza nella trasmissione dei misteri cristiani in attesa che gli individui con quella conoscenza che hanno ricevuto sviluppino questa intelligenza che non è un qualcosa di intellettuale di razionale ma è strettamente legata proprio a questa purezza di cuore e fra coloro che ebbero il privilegio di conoscere la rivelazione profonda ed esoterica vi furono l'evangelista marco che accompagnò pietro e paolo e poi luca compagno fedele di paolo ecco prima di entrare nel dettaglio di come si svilupperà lungo queste linee di legate appunto a marco e a luca parlamide si fa una semplice osservazione ma molto chiara dice lo studio comparato delle religioni mette in evidenza che le religioni del passato avevano un lato occulto quindi oltre al lato popolare avevano un lato occulto e custodivano dei misteri cosa che confermata dalla ricerca di un'iniziazione da parte dei più grandi uomini e infatti noi sappiamo che tutti i grandi uomini dell'antichità lo raccontano i loro biografi cercavano l'iniziatore andavano presso i templi andavano presso i santuari per cercare un iniziatore perché volevano entrare nell'aspetto più vivo ricevere una rivelazione diretta perfetto quindi e poi si tratta ora di verificare se il cristianesimo è il solo a non possedere un agnosi e quindi a rimanere fuori dall'ambito delle altre religioni offrendo a tutti i popoli della terra una fede semplice priva di una sapienza profonda se così fosse dovremmo ammettere che la dottrina del cristo è adatta solo a una classe di individui ma non a tutti quindi pensare realmente che il cristianesimo si limiti a un aspetto possiamo dire rivelato per come lo conosciamo di comportamenti etico e comandamenti eccetera è chiaramente una limitazione ma è anche un controsenso logico bene e poi aggiunge in ogni tempo sia nell'ebraismo che nel cristianesimo vi è sempre stato una lotta un antagonismo di tendenze per l'interpretazione della bibbia ovvero l'antico il nuovo testamento alcuni insistevano per un'interpretazione in senso letterale altri in senso allegorico altri ancora per entrambe e questo non lo sappiamo perché i piani figuriamoci accettiamo i piani di lettura per le opere di narrativa accettiamo i piani diversi di lettura interpretazione per i saggi non vogliamo accettare i piani di lettura per i testi rivelati chiaramente non allora a questo punto siamo noi che stiamo facendo noi stessi una scelta no perché se persino i romanzi e i saggi possono essere letti su più livelli figuriamoci i testi sacri e paralisi a dire questa inclinazione a sopprimere e soffocare uno dei due metodi senza cercare di farli coesistere fondere ed equilibrarsi ha dato origine ad una specie di gioco alternativo di valvole frenanti o acceleranti il flusso della rivelazione che fissata dalle sacre scritture appariva agli occhi alla mente dei fedeli con un contenuto moralizzante religioso semplice e popolare oppure peraltro al contrario più profondo diciamo esoterico e comprensibile solo e più evoluti spiritualmente questa lotta esegetica si può spiegare in due modi uno il timore di parlare troppo cioè di dire prima del tempo come dicevi tu ciò che sarebbe stato opportuno svelare più tardi e il secondo è l'incomprensione dei passi scritturali secondo i significati più profondi e perciò l'imposizione di una visione di quei passi secondo un'interpretazione elementare ancora adesso vi faccio solo un esempio il testo dell'apocalisse il testo liturgicamente meno citato solamente ci sono pochise tipo sei citazioni nel corso delle letture annuali eppure il testo sarebbe un testo importantissimo la rivelazione terminale e nel diciamo nelle preghiere quotidiane viene citato in tutto l'anno preghiere vengono fatte più volte al giorno una decina di volte in tutto perché essendo complesso chiaramente si dice dovremmo spiegarlo noi perché lo mettiamo ma noi non l'abbiamo capito quindi non lo mettiamo il passaggio è abbastanza semplice tra l'altro il timore di parlare troppo l'incomprensione dei passi ricorda proprio quel monito che cristo fa gli scrive ai farisei della sua epoca no dice scrive farisei ipocriti avete perso le chiavi del regno voi non siete entrati e avete impedito quelli che volevano entrare e qui allora dobbiamo fare un ragionamento perché se quando parla alle folle parla a noi perché quando parla ai sacerdoti parla solo ai sacerdoti c'è gli scrive farisei del suo tempo se parla alle folle di tutti i tempi parla anche ai sacerdoti cioè custodi la tradizione di tutti i tempi sono loro in questo senso possa sentirci a tutti un po coinvolti visto che ci interessano se siamo noi che dobbiamo stare attenti a non perdere le chiavi del regno no entrare invece di e dare una mano a quelli che vogliono entrare altrimenti quel monito riguardo quel monito riguarda tutti non solo quelli della sua epoca perché poi quelli dopo sono andati tutti bene no perché allora anche le folle sarebbero andate bene e qui è molto carino una citazione di clemente alessandrino l'abbiamo già anticipato come personaggio che dice proprio il maestro deve moltiplicare le allegorie e simboli affinché solo gli iniziati possano comprendere beh insomma un po' diverso dal col cristianesimo è stato detto tutto è parecchio diverso non è impresa agevole tracciare una storia dell'esoterismo cristiano perché sin dagli albori del nuovo testamento si sono costituiti dei gruppi di lavoro catechetico per dare istruzioni ora semplici ed esoteriche ora complesse cioè profonde ed esoteriche in conformità alle attitudini degli insegnanti e adatta alla mentalità dei loro allievi quello che si diceva prima la tradizione era sia orale che scritta ma fu rimaneggiata e questa è un'altra cosa con cui bisogna fare i conti cioè noi abbiamo a disposizione testi che spesso sono rimaneggiati per quanto una voi avete di fondo noi dei vangeli abbiamo della maggior parte abbiamo la famosa fonte q no la quelle che sono gli agrafa cioè sono i testi proprio citati ma il resto sono spesso state un po manipolate le cose il carattere eminentemente esoterico del cristianesimo primitivo quindi cristianesimo originario aveva questo carattere preeminentemente esoterico è dichiarato da un autore del 370 san basilio il grande che nel suo trattato dello spirito santo quindi siamo nel 370 scrive di una tacita e mistica tradizione mantenutasi fino ai giorni nostri ed una istruzione segreta osservata senza discutere dai nostri padri e che seguiamo attenendoci alla semplicità del loro silenzio poiché aveva avevano appreso quanto necessario fosse il silenzio per conservare e rispette la venerazione dovute ai nostri santi misteri e difatti non si addiceva il divulgare per iscritto una dottrina racchiedente in sé cose non lecite da contemplarsi per i catecumeni e potente presente i catecumeni erano quelli che si preparavano per il battesimo cioè non era quelli esterni erano quelli interni che si stavano preparando per ricevere iniziazione quindi anche quelli che si preparavano non potevano sapere tutto anche per loro la rivelazione era progressiva come nelle tradizioni misteriche chi ha una rivelazione immediata è san paolo che infatti come sapete rimane steso per un mese no quando è così cioè arriva e non è che ci si discute troppo non si va in trattativa cose non lecite è una frase sibillina che fa supporre informazioni riservate prescelti eppure scrive paramidesti le verità che oggi in pieno secolo ventesimo sono divulgate e pubblicate nelle diverse lingue da teologi ed esperti di liturgia non sono dissimili da ciò che allora al tempo di san basilio si diffondeva cioè ancora oggi dal punto di vista dell'esoterismo cristiano non è scrive paramidesti si sono fatti chissà quali passi avanti il compito di questa sintesi è di dare una visione chiara e aderente ai fatti storici che la giustificano ora qui c'è tutta la trattazione storica per la quale noi rimandiamo al quaderno perché è bellissimo ricostruire il filo è come se uno incontrasse dopo l'altro tutti questi personaggi e ciascuno di loro ci dicesse proprio personalmente a scuola guarda che le cose prendendole stanno così e tra questi in particolare appunto clemente alessandrino tito flavio clemente alessandrino ad esempio uno uno dei uno dei principali è stato proprio 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 lui e dobbiamo considerare che all'inizio proprio quando si formò questa comunità cosa che noi nel tempo ci siamo un pochino dimenticati questa comunità si formò perché insieme agli apostoli c'era la vergine questo aspetto questo questa figura della vergine nonché delle cosiddette pie donne perché noi ora usiamo questa espressione in un senso limitativo quasi bigotto quasi soristico e quando leggiamo nei testi che erano ai piedi del maestro noi interpretiamo questa cosa in senso devozionale e di umiltà come un gesto tra virgolette di umiliazione neanche di umiltà in realtà era la stessa espressione questa ignoranza diciamo nostra che si usava quando si parlava dei discepoli di platone o dei discepoli di socrate il modo per dire che uno era uno studente di un certo maestro era di dire che era i suoi di ai suoi piedi io sono ai piedi di platone io sono ai piedi platone dice che era i piedi di socrate le piedone nei piedi di cristo perché erano studiose erano discepoli partecipavano completamente e questo perché c'era la vergine quindi dedica un capitolo proprio che si intitola l'angelo del grande consiglio la santissima vergine maria madre di gesù e la sacra maternità per un miracolo dell'onipotenza divina l'uomo gesù ha ricevuto lo spirito santo maria non poteva dare che un corpo di carne umana al figlio di dio fatto uomo ma poiché la persona di gesù cristo è una sola ed è divina di conseguenza maria si deve chiamare madre di dio nel senso di essere stata la donna prescelta per generare gesù senza la cooperazione genetica di un uomo quindi maria ovviamente ha concepito il corpo ma siccome in quel corpo si è incarnato il cristo figlio di dio la si chiama madre di dio ed è tale senza la cooperazione genetica di un uomo maria fu scelta fra tutte le donne per la sua purezza intesa in tutti i sensi e in tutti i tempi quindi non soltanto per la purezza di quel momento ma è come un modello che vale in tutti i tempi e per questo è chiamata pura immacolata e vergine prima e dopo la nascita del figlio maria è detta concepitrice di gesù per virtù dello spirito santo questo fenomeno è di un'enorme portata teologica e a questo proposito tommaso palamedessi riporta una spiegazione tratta da san giovanni damasceno che dice noi diciamo che dio è nato da maria ma nel senso che il verbo il quale al di fuori e prima del tempo è nato dal padre con la p maiuscola ed è eterno come il padre e lo spirito nella pienezza dei tempi è vissuto nel suo seno per la nostra salvezza senza cambiamento ha preso carne ed è nato da essa quindi pur essendosi incarnato in un uomo ha conservato tutta la sua natura divina origene origene per dirla alla greca insomma così scrive chi non ammette la nascita di cristo dalla vergine maria e dallo spirito santo ma pretende che sia nato da giuseppe e da maria costui manca di ciò che è più necessario alla professione della fede ritengo scrive tommaso palamedessi che origene usasse per primo ad alessandria d'egitto il termine teotocos per definire la nostra madonna generitrice di dio allora riguardo alla vergine e all'incarnazione del verbo forse la più antica testimonianza conservata è quella di paolo nell'epistola ai galati e ve la leggo questa testimonianza scritta nel tipico linguaggio ovviamente paolino allora quando venne la pienezza dei tempi dio mandò il suo figlio nato da una donna soggetto alla legge per redimere coloro che erano soggetti alla legge perché ricevessimo l'adozione a figli cioè san paolo appunto non spende nessuna parola particolare per il ruolo svolto dalla vergine maria anzi dice che iddio mandò suo figlio nato da una donna e per questo soggetto alla legge cioè i due le due espressioni nato da una donna soggetto alla legge sono da leggere come l'una la spiegazione in un certo senso dell'altra proprio perché iddio fece nascere il proprio figlio da una donna accettò che questo suo figlio di natura divina si sottomettesse alla legge a cui l'essere umano si era sottomesso nel momento in cui si era distaccato dall'unione originale con dio distaccandosi dall'unione originale con dio scatta il processo della redenzione cioè l'uomo si sottomette alla legge divina che è utile alla sua evoluzione spirituale e quindi il fatto che appunto il figlio di dio nasca da una donna fa sì che sottomettendosi alla legge possa far fare in modo che gli stessi esseri umani acquistino la condizione di figlio perché se non si sottomettesse alla legge come potrebbe redimere il genere umano sottomesso alla legge ecco permette appunto l'adozione del genere umano a questa condizione di figlio proprio perché si sottomette alla stessa legge a cui si è sottomesso il genere romano con il peccato di apostasia da dio dice se questo tommaso palamedesi scrive se gesù cristo è vero dio è vero uomo e il cristo come ha ricordato san paolo ha dato a ognuno di noi l'adozione a figli la vergine che lo ha partorito a maggior ragione da madre dell'uomo dio è assurda alla dignità di madre di dio e dell'umanità dell'umanità scritto con la u maiuscola perché si fa riferimento a l'umanità che sul modello della vergine maria è in grado seguendo la via aperta da cristo di concepire il figlio di dio nel proprio cuore quindi un'umanità che è come santificata perché segue proprio il la via aperta da cristo l'espressione paolina mette l'accento sulla venuta dei tempi perché appunto iniziava quando venne la pienezza dei tempi dio mandò il suo figlio nato da una donna quindi l'espressione paolina mette l'accento sulla venuta dei tempi messianici o escatologici che concludono la lunga attesa di secoli con la nascita del dio uomo in una donna quindi la la stessa donna che si era resa partecipe della caduta del dell'uomo del suo peccato di apostasia da dio è anche la chiave in un certo senso per la il cammino di ascesa dell'uomo a dio nella stessa epistola ai galati l'apostolo dice pure e che voi siete figli ne prova il fatto che dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida abbà padre quindi non sei più schiavo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per volontà di dio quindi se appunto con la caduta il lo spirito umano si è distaccato da dio proprio per seguire le passioni che invece avrebbe dovuto sublimare proprio nell'unione con dio la venuta di cristo ha ristabilito nel nostro cuore lo spirito del figlio di dio cioè è come se la sua venuta ha ridonato la possibilità di conquistare la condizione del figlio perché solo il figlio può rivolgersi al padre chiamandolo padre quindi questo spirito che nell'uomo grida padre è uno spirito appunto risvegliato dalla venuta di cristo e in ciò implicitamente perché appunto san paolo non lo afferma direttamente se no non sarebbe san paolo ma implicitamente san paolo dice che è proprio in virtù di un uso di questo potere generativo allineato alla volontà divina che si ha la possibilità di non essere più chiamati schiavi ma figli perché si questa vergine maria fa una scelta ben precisa e infatti tommaso palamedessi lo dice prima a far riferimento a le varie profezie che nell'antico testamento parlano della venuta di maria ve le reggo una sola isaia 7 14 ascoltate casa di davide pertanto il signore stesso vi darò vi darà un segno ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà emmanuele cioè emmanuele emmanuele sarebbe dio con noi significa in ebraico quindi i pochi testi profetici e le notizie storiche scaturite dai vangeli sulla madre di gesù disorientano e sconfortano un lettore superficiale ma chi indaga sufficienza e nella direzione giusta riesce ad avere gli elementi essenziali per un giudizio obiettivo sulla personalità la grandezza e la missione di maria maria come viene delineato nell'antico testamento e fatto realtà nel nuovo è figura di primaria importanza nel divino piano della salvezza la sublime e vergine immacolata ha ubbidito alla volontà salvifica dell'onnipotente perché ha accettato con fede umiltà e amore la speciale missione di madre di un dio uomo infallibile e integrale quindi non il fatto di concepire un semplice uomo né di un atto devozionale nei confronti di dio ma proprio di mettere al mondo appunto di un dio uomo scrive Tommaso Pramedessi per i motivi accennati l'archeosofia crede che la vergine maria abbia partorito il dio uomo salvatore del mondo e che sia divenuta sua madre perciò partecipante all'opera salvifica del Cristo ecco qui viene messa in evidenza una caratteristica particolare cioè se non vi fosse stata una donna capace di questa scelta l'opera salvifica del Cristo non avrebbe potuto iniziare per questo ha partecipato scrive all'opera salvifica del Cristo perché lei ha scelto di parteciparvi cioè più piuttosto che seguire l'indole di una creatura umana ha fatto una scelta consapevole quella di accettare la missione di concepire con lo Spirito Santo il Figlio di Dio quindi una deliberazione una scelta consapevole portando nel suo seno il Figlio di Dio la Santissima Vergine in certo qual modo unita alla natura divina per cui è rinnovata lei stessa e partecipa del rinnovamento del mondo intero perché in quanto modello della natura umana che allineandosi alla volontà divina cioè ne viene come trasmutata è proprio questo modello della natura umana che si allinea alla volontà divina e quindi viene come trasmutata fino a concepire in sé il Figlio di Dio una domanda richiede una risposta precisa chi era Maria la madre di Gesù Cristo? se il Cristo fu concepito ce l'ho grazie l'acqua grazie l'acqua non mi serve adesso allora una domanda richiede una risposta precisa chi era Maria la madre di Gesù Cristo? se il Cristo fu concepito per virtù dello Spirito Santo chi era questa donna? che cosa aveva di speciale per diventare la madre del Messia? credo di fare delle congetture esatte se consideriamo la Vergine Maria preesistente alla creazione ed angelo femminile precisamente l'angelo del grande consiglio come un angelo fu il precursore del Cristo sempre precursore ad ogni ritorno del Figlio di Dio il donno del consiglio è un abito soprannaturale l'archeosofo lo considera dunque per l'anima in grazia mossa dall'ispirazione dello Spirito Santo in condizioni di giudicare rettamente e lo spiega così Tommaso Palamedessi è l'ispirazione a fare ciò che conviene secondo l'ordine al fine ultimo soprannaturale cioè Maria non si muove secondo le pulsioni della natura umana ma proprio sceglie di muoversi secondo ciò che conviene per realizzare l'ordine al fine ultimo soprannaturale fa una deliberata scelta l'angelo del grande consiglio operante anzi no scusate e dice lo Spirito Santo in quanto causa motrice nonché l'anima in grazia produce un atto soprannaturale per la divina mozione ricevuta quindi vi sono due ingredienti fondamentali lo Spirito Santo come causa motrice e l'anima in questo stato di grazia quando vi sono questi due elementi si può procurare un atto soprannaturale come è stato appunto il concepimento del Figlio di Dio da parte della Vergine l'angelo del grande consiglio operante impersonifica la virtù della prudenza e il dono del consiglio tale consideriamo la Santissima Vergine Maria Madre di Gesù Cristo quando sono in atto i doni dello Spirito Santo vi è una tempestività negli atti in virtù scusate vi è una tempestività negli atti di virtù compiuti senza il laborioso e lento processo della ragione e infatti la Vergine Maria quando Gabriele l'arcangelo Gabriele le preannuncia la sua missione non esita nel senso che risponde subito eccomi sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto quindi non c'è un ragionamento razionale che valuta i pro e i contro vi è un'immediatezza nell'espressione di questa virtù che la caratterizza non poteva esserci madre più adatta per l'incarnazione del Verbo il Signore ha parlato al cuore di Maria come discrezione ebbe le radici nell'umiltà l'umiltà fondata nella conoscenza di sé questa definizione di umiltà fondata nella conoscenza di sé quindi una consapevolezza anche che la spinge a fare la scelta di muoversi secondo lo scopo di realizzare l'ordine che porta al fine supremo al conseguimento del fine supremo la santa discrezione di Maria ebbe un grande spirito di fede e di giustizia che rese a Dio e al prossimo il dovuto in tutto questo era operante la Sofia creata e quindi vi sarebbe da aprire un capitolo che però non apriamo sul collegamento proprio tra la Vergine Maria e la Sofia creata che si distingue dalla Sofia in creata perché la Sofia in creata è strettamente collegata proprio alla figura del figlio di Dio bene credo che sono le otte e dieci quindi penso che cominciamo ad avvicinarci un pochino all'orario del termine c'è un'ulteriore differenza che è quella tra la Sofia e l'agnosi l'agnosi del cristiano scrive Palamedessi non è l'agnosi del non cristiano dove manca un lavoro permanente di autopurificazione integrale con forme consiglia monumenti ed esempi non c'è ignosi quindi questo è un punto chiaro sull'agnosticismo così come viene inteso l'agnosi scrive Palamedessi è uno stato di contemplazione permanente patta di amore nudità spirituale e sapienza non di questo mondo una sapienza e conoscenza superiore delle cose divine che fa opporre come scrive Clemente Alessandrino non soltanto alla filosofia dei greci e dei barbari ma anche alla fede comune degli stessi cristiani i fondatori del cristianesimo scientifico quali furono Clemente Origene sapevano che senza l'adeguata preparazione non si varca la porta stretta ma trovarono gli oppositori che erano sulla linea semplicistica di una pedagogia di massa molti oggi rifugiandosi nelle organizzazioni cosiddette iniziatiche si sono adagiati in esse senza capire i danni e i pericoli mortali di un'iniziazione poggiata sulla forza dei simboli che modellano chi riceve un'iniziazione ritiene di possedere impropri segreti della divinità l'orgogliosa certezza di essere un iniziato è un narcotico veleno che non consente di vedere la propria insufficienza ma non meno responsabile è quel cristiano che si illude di essere nelle condizioni di salvezza obbedendo ad una religione cristiana di massa ancora dal turbine dell'ognosticismo e dell'antignosticismo si è formata la nostra scuola archeosofica la scuola della scienza dei principi che trae la linfa vitale dal prologo di san giovanni e dalle parole di san paolo quando scrisse nella prima lettere ai corinzi e in quella ai colossesi tra gli iniziati perfetti noi parliamo di sapienza ma non di sapienza di questo mondo né dei potenti di questo mondo che vengono distrutti bensì parliamo di una sapienza di dio avvolta nel mistero che è stata nascosta e che dio predestinò prima dei secoli per la nostra gloria la nostra scuola è antica perché segue l'insegnamento degli apostoli della loro catechesi ed esegesi che ad alessandria d'egitto si fece sentire con la successione ininterrotta dei maestri dall'evangelista Marco discepolo di pietro e paolo a Panteno Clemente Origene e molti altri la cui ignosi strettamente dipendente dalla Bibbia è l'agnosi dell'archeosofia ma quest'ultima arricchita di tutte le moderne conquiste scientifiche psicologiche e sociologiche con una vita misterica e quindi teurgica per i fratelli di ben provata volontà quindi facendo proprie le parole di Clemente Alessandrino negli stromata l'agnosi viene riconosciuta dai frutti e dalla vita non dalle chiacchiere e dai fiori noi infatti sosteniamo che l'agnosi non è un semplice ragionamento ma una scienza divina quindi sperimentale su questo Palamides si insiste e quella luce che viene dall'anima in seguito all'obbedienza dei comandamenti che hanno anche loro più di un livello di interpretazione non c'entrano niente quasi niente col catechismo come viene insegnato e questo rende tutto chiaro ciò che si trova nell'ordine del divenire dispone l'uomo a conoscere se stesso e gli insegna a qualificarsi come possessori di Dio ciò che infatti è l'occhio del corpo lo è l'agnosi per l'intelletto bene noi abbiamo praticamente semplicemente accennato a questo testo ci sarebbero ancora tantissime cose da dire avremmo voluto di sarà sì avremmo voluto parlare anche di un aspetto particolare che Palamides si inserisce in questo testo proprio perché collegato alla storia del cristianesimo esoterico che riguarda il mondo degli angeli e la sua creazione con una serie di capitoli si intitolano gli angeli esistono il mondo degli angeli la natura degli angeli l'organizzazione che è in parte preso ovviamente voi lo sapete da quelli che ne hanno parlato però diciamo ci sono anche delle cose che parlano di essi però è anche bello insomma che le persone facciano da sole questa scoperta quindi voi sapete che c'è un testo in cui questo aspetto viene sviluppato e noi vi ringraziamo tutti per la pazienza perché fa anche parecchio caldo insomma questa sera e vi diamo appuntamento per l'ultimo incontro qui presso la libreria che sarà sì ora c'è Michelangelo che sta scorrendo le slide per arrivare in fondo sì giustamente che sarà dedicato al diciottesimo quaderno di archeosofia l'esperienza misterica del santo graal e che affronteremo il 3 luglio lunedì 3 luglio sempre alle alle 19 qui qui in libreria insomma bene grazie a tu no grazie a voi grazie 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 a tutti